Musica Un omaggio alla natura di Caravaggio, opera trafogata dalla mafia nel 1969 e me ha ritrovato. Scomparso in una notte d'ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo, questo dipinto è avvolto dal mistero, in quanto nel corso di 50 anni di ricerca e indagini si sono alternate varie ipotesi, da quella che crede il quadro svizzera alla possibilità che sia andato distrutto. L'opera presenta uno stile affine alle opere romane del Merisi, pertanto ritenuta nel 1600. Il dipinto esemplare della rivoluzione di Caravaggio che rende protagonista nella storia sacra i più umili, rappresentati con forte realismo. La luce, proveniente da sinistra, squarcia le tenebre, creando netti effetti di caroscuro che danno forze espressive e concretezza fisica alle figure. San Giuseppe di Spalle invita il pastore a guardare il bambino insieme agli altri e sembra coinvolgere anche noi a posare lo sguardo commosso su Gesù, appoggiato su un misero paliereccio. Tra San Lorenzo e San Francesco, presenti perché richiesti dalla committenza, si cala dall'alto l'angelo dalle ali di vere piume, portando il cartiglio con l'inno dell'annuncio. Gloria in excelsis Deo. L'orapera di Caravaggio è un'olio su tela databile al 1600 circa, realizzato per l'oratorio di San Lorenzo di Palermo. Disappare sido in una noce di ottobre del 1969 e nell'oratorio di San Lorenzo in Palermo e sta pintura di Caravaggio non casita in contrada. L'oratorio di San Lorenzo L'oratorio di San Lorenzo